guardate che meraviglia sembra una pera d'arte è flamoroso panno cioccolà ciac buon pomeriggio buonasera buongiorno dipende quando state guardando questo video bentornati sul mio canale vi presento per chi non mi conosce per chi è entrato sul mio canale per questo video mi chiamo pasquale sono ragazza appassionato di cucina ho mollato lavoro che facevo per specializzarmi in ciò che amo fare ovvero cucinare preparare e provare di diffondere la mia passione oggi proviamo a fare uno delle pettivi noiserie o delle patti pettisserie più famose ovvero il panno cioccolà o cioccolatino non mi ricordo come si chiama il nome vero originale il panno cioccolà mi sono appassionato terribilmente al mondo della pasta sfoglia e dopo l'episodio del croissant e dopo l'episodio di girarle con crema e uvetta ho fatto una prova a telecamere spente come sempre è venuto risultato discreto mi avete chiesto la ricetta lo spoiler l'ho caricata su instagram e su tik tok e oggi sono qui a preparare con voi i pan o cioccolà cominciamo immediatamente con la lista della spesa che come l'altra volta non è una ricetta difficile serve solo molta precisione e ci vuole un po di pazienza perché ci sono parecchi tempi di attesa tra una fase e l'altra lista della spesa ma prima della lista della spesa come ogni volta io vi volevo ringraziare per il supporto che mi state dando e ricordarvi per chi ancora non l'avesse fatto di iscriversi al canale accendendo la campanella lasciare un like e commentare scrivendomi qual è la vostra colazione francese preferita magari se mi piace qualche idea diversa mi documento mi informo e la facciamo lista della spesa grazie allora per il pastello ovvero la parte esterna io qui faccio dose doppia perché devo sfamare parecchi persone però la dose che vi do è una dose singola dove riuscite a farla tranquillamente utilizzando una semplice planetaria o impastando a mano avremo bisogno di 500 grammi di farina forte una farina con un w di 280 300 che resiste almeno alle 24 ore di fermentazione 150 millilitri di latte e 150 millilitri di acqua 25 grammi di lievito di birra 55 grammi di zucchero 5 grammi di sale e per il panetto avremo bisogno di 250 grammi di burro aggiungiamo le farine tutta aggiungiamo il lievito e cominciamo a far girare in prima velocità dentro con acqua e latte magari lo mettiamo in due volte così fa in modo ad assorbirlo bene come avrete notato non ho introdotto nello zucchero nel sale perché perché prima tendo a far coprire il nostro lievito poiché tanto lo zucchero quanto lo sale essendo microscopici se fossero entrati in contatto con il nostro lievito l'avrebbero disattivato lo faccio lavorare un paio di minuti una volta che struttura dentro con il sale dentro con lo zucchero e lavoriamo con il nostro impasto mezzo strutturato sale zucchero e facciamo andare due minuti circa in prima velocità o due tre minuti in prima velocità e circa 5 7 minuti in seconda velocità o comunque in velocità più alta andando a verificare la struttura della nostra maglia gluttinica successivamente maglia ben formata qualche giro di piega proprio veloce veloce placca carta forno farina così siamo certi che non si appiccica altra farina e a sto punto lo lasciamo partire una mezz'oretta 20 minuti mezz'ora e successivamente lo mettiamo in frigo tra 2 e 4 gradi fino domattina dovrà stare in frigo almeno 12 15 ore circa prepariamo il panetto per il panetto ci serviranno due foglie di carta forno e per praticità io vi consiglio di prenderne uno disegnare all'interno un rettangolo di 40 centimetri di lunghezza per 20 centimetri di altezza adagiare sopra l'altro foglio e aiutandoci con la riga stessa tiriamo su andandola a piegare uguale la parte dell'altezza fatto questo apriamo adagiamo il centro di 250 grammi di burro copriamo nuovamente con un mattarello andiamo a schiacciare rendendo plastico il burro e poi lo stendiamo in tutto il perimetro stiamo più delicati evitando che il burro possa arrivare alla fine rompere la carta forno cerchiamo di ottenere un rettangolo quanto più omogeneo possibile e lo riponiamo in frigo una volta che le nostre due basi sono pronte trasferiamo in frigo per circa 12 15 ore noi ci vediamo domattina io adesso vado a fare gambe e schiena ci vediamo domani signori 12 ore dopo questo è il nostro composto che è bello che è raddoppiato visto che è dose doppia come vi avevo detto dobbiamo andare a stenderlo ottenendo un quadrato di 40 per 40 poiché il nostro inserto è appunto 20 per 40 quindi dovrà essere lungo tanto quanto il burro fate qualche centimetro in più ma dovrà essere largo appunto 40 in modo che riusciamo a rincalzare i due bordi vuole che faccio l'upgrade stesa la nostra pasta prendiamo il burro che abbiamo fatto acclimatare una mezz'oretta circa a temperatura ambiente e adesso andiamo a sovrapporre i due lembi esterni se c'è della pasta dove non c'è del burro la tiriamo via farina e lo andiamo a stendere così lo rendiamo plastico senza scaldarlo e lo andiamo a stendere ottenendo una dimensione di circa 60 centimetri ci accertiamo sempre sotto che non sia attaccato e facciamo una semplice piega 3 ovvero un terzo lo portiamo fino a metà circa facciamo lo stesso con l'altro terzo sovrapponendolo noi abbiamo la nostra sfoglia con una piega a 3 adesso pellicole lo mettiamo in freezer per una ventina di minuti o in frigo per un 40 minuti circa allora signori mentre la nostra pasta sta riposando prepariamo il l'inserto al cioccolato la barrettina di cioccolato se trovate una barretta di cioccolato che vi va bene che vi piace come gusto che avete già scacchettata ben per voi io non ce l'avevo l'unica cosa che avevo in casa è questa la barra gigante quindi che cosa faccio lo andremo a temperare ne mettiamo due terzi circa in una bull e lo sciogliamo al microonde per fare la tecnica più veloce e più semplice vi servirà solamente un termometro lo tritiamo tutto ne fondiamo due terzi portandolo a temperatura di più o meno 40 massimo 45 48 gradi su per giù mescoliamo abbassando leggermente la temperatura introduciamo il terzo che c'è rimasto quindi per inseminazione andiamo a temperarlo portando il tutto una volta aggiunto questo a una temperatura tra i 29 e i 31 visto che le nostre barrette devono essere lunghe 10 cm andiamo a fare delle righe di circa 10 cm su cui andremo a far colare il nostro cioccolato 46 arrivati a circa 30 gradi sacca da pasticceria dopo 20 minuti di freezer riprendiamo la nostra poliva riposata e raffreddata e l'andiamo a stendere lungo questo verso qui quindi con la chiusura qui e con le bocche aperte sopra e sotto la tiriamo nuovamente fino a circa i 60 cm all'inizio andiamo ad ammorbidire leggermente il burro così andiamo a rendere più il plastico e successivamente lo stendiamo arrivato a circa 60 cm e accettandomi che non si sia attaccato piega a 4 un terzo circa lo piego gli altri due terzi non lo sovrappongo ma lo porto vedete attaccato vicino questo lo piego così e noi abbiamo 1 2 3 e 4 strati adesso ripetiamo pellicola e riposo in freezer per altri circa 20 minuti passati 20 minuti e l'andiamo a stendere ottenendo un'altezza di circa 28 30 centimetri e una larghezza di più o meno 50 centimetri lo andiamo a parare andiamo a fare un'incisione ogni circa 10 centimetri schiacciamo leggermente la parte finale giusto che ci servirà d'attacco prima barretta giriamo come l'abbiamo coperta l'altra barretta ed andiamo ad arrotolare adagiandoci sulla base leggermente schiacciata le andiamo a disporre su di una placchetta le mettiamo a lievitare in camera di lievitazione o comunque al caldo o comunque nel forno con lo sportello chiuso con la luce accesa in un ambiente caldo non sopra i 27 gradi perché se no il nostro burro rischia di sciogliersi per un due ore due ore e mezza dovranno crescere un bel po ci vediamo tra un po mancano circa 20 minuti alla fine della lievitazione dei nostri pano cioccolato ho già messo a scaldare il forno a più o meno 180 gradi e ci prepariamo lo sciroppo e il tuorlo sbattuto con il latte questo è lo sciroppo che dovremmo mettere in superficie ancora caldi appena li sforniamo facciamo parti uguali di zucchero e acqua io ho fatto 30 grammi di zucchero e 30 grammi di acqua portiamo sul fuoco appena arriva a bollore spegniamo mentre per l'altro tuorlo e latte circa in parti 2 a 1 quindi 20 e 40 di latte sbattiamo il tutto perfettamente e ci prepariamo a infornarli dopo circa due ore e mezza vedete che si stanno artificando andiamo a spennellare la superficie con l'uovo di prima e li inforniamo per circa 15 18 minuti a 180 gradi dopo circa 20 minuti li sforniamo e li lacchiamo immediatamente con lo scirotto facendoli raffreddare per una mezz'oretta meraviglia meraviglia è clamoroso è clamoroso è clamoroso e adesso caffè signori questo video è giunto al termine faccio la chiusura in fretta che sto morendo dal freddo io spero che sia stato di vostro gradimento non mi aspettavo venissero così belli sfogliati guardate che meraviglia sembra una pera d'arte io non mi aspettavo che venissero così bene vi invito a rifarli mi raccomando siate precisi meticolosi qualche attenzione in più metteteci una mezz'oretta in più una volta che li fate ma una volta che li avete sfornati portatele alla persona cara e vedrete che ve ne sarà grata in eterno signori se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un mi piace a commentare scrivendomi qual è la vostra petit patisserie preferita che magari se non l'ho ancora fatta ve la rifaccio a iscrivervi al canale accedendo alla campanella per non perdere i prossimi video e rimane ragionato sugli scorci principesse io faccio questo sacrificio mi mangio anche quest'altra metà un abbraccio